Allora, salve a tutti, siamo qui nel Suzzichino, il post-evento, un evento straordinario con Mimmo De Gregorio, Mimmo nel Suzzichino, vediamo questo rappello, l'orgoglio contadino, l'orto Genzi, che è un qualcosa che è nato durante la pandemia, è da questa della terra dove trova la forza, la terra della famiglia trova la forza di fare qualcosa di straordinario, come questi due giorni, vero? È vero, è verissimo e ne sono fiero e contentissimo di questo grande evento che ho realizzato qui nel cuore della mia terra, quindi di Massa Lubrezze. È un evento che era già previsto circa due anni fa, ci ha dato un fermo la pandemia e con grande entusiasmo, devo dire con grande entusiasmo e grande energia, abbiamo ricevuto grandi applausi e grandi meriti da tutta Italia per questo evento che si è tenuto. sia per via mare, che abbiamo fatto questo tour nel fiordo di Grapulla, che per via terra, che le ho portate nel percorso mio, che ce l'ho nel cuore da piccolo, che è quello dell'orto Genzi. E la bellezza salverà il mondo, diceva un grande scrittore russo, e lo ci diamo non a caso in questo momento. E la bellezza e la bontà è buono, è giusto, è il grande entusiasmo che è venuto da Mimmo, che non si è mai fermato, mai scoraggiato, e si è stato premiato per questi due giorni che hanno avuto un successo straordinario. E io, Michele, ringrazio te, di Positano News, ma ringrazio comunque tutti coloro che mi sono stati vicini, a partire dalla mia famiglia, ma a partire dai contadini, dagli agricoltori, dai pescatori, che hanno fatto sì, tutti quanti insieme con i miei osti delle trattorie d'Italia, a realizzare questo grandissimo evento che ha avuto un grandissimo successo. E questa bellissima terra che mi ha salubrezza. Grazie pure e saluto a tutti i miei amici, più cari, stretti e vicini. Grazie veramente. Grazie, grazie a te Mimmo. Grazie a tutti. Grazie.